Alleluia Spirito Santo Padre Quel che desideriamo più di ogni altra cosa Quello che vogliamo di più Signore è conoscerti intimamente Spirito Santo desideriamo che Tu ci porti ad una maturità maggiore Per quanto riguarda il desiderio dell'intimità con Te Vogliamo di più Signore, vogliamo conoscerti di più Desideriamo conoscerti più intimamente Stiamo bramando a conoscere quello che c'è nel Tuo cuore I Tuoi disegni, Signore, i Tuoi progetti Il Tuo amore, le Tue compassioni Desideriamo, Signore, provare il sentimento di compassione che Tu provi Per le persone che ancora non Ti conoscono Desideriamo, Signore, provare l'amore Che Tu provi Per coloro che Ti bestemmiano, Signore Desideriamo, Signore, provare lo stesso amore che provi Tu Per quelle persone, Signore, che Ti rinnegano Non vogliono sentire parlare di Te Ma Tu continui ad amarli, Signore E per l'uomo naturale Questo è pazzia Ma noi vogliamo crescere, Signore Vogliamo crescere, Signore, quanto all'amore E Gesù stesso insegnò Cosa fate di straordinario se amate i vostri amici Anche i pagani Amani i loro amici E Gesù voleva portare i Suoi discepoli ad un livello di maturità maggiore Che era quello di amare I propri nemici Io Ti chiedo questa sera, Spirito Santo, che Tu ci ammaestri Che Tu questa sera, Signore, ci fai vedere Il cuore del Padre Come Lui ama E vogliamo amare del Suo tipo di amore L'amore per i perduti, Signore L'amore per gli orfani L'amore per le vedove L'amore per i drogati L'amore per gli omosessuali L'amore per le prostitute L'amore per i mendicanti L'amore per coloro che parlano male di noi e ci perseguitano Spirito Santo L'amore per gli afflitti L'amore per i malati, Signore Ti chiediamo questa sera, Spirito Santo Lavora nel nostro cuore Lavora, cambiaci, Signore Cambiaci perché vogliamo essere figli Tuoi maturi Non vogliamo camminare con atteggiamenti infantili Con modi di pensare infantili, Signore Ma desideriamo camminare da figli Tuoi maturi Figli Tuoi maturi, Signore La Tua parola dice, Signore, che noi siamo la luce Che noi siamo il sale La Tua parola dice che una città Viene messa sopra un monte Così, Signore, noi come Chiesa, come credenti Vogliamo essere come la città posta sopra un monte Che si possa evidenziare Che possa essere un punto di riferimento Signore, non vogliamo stare nascosti Non vogliamo stare, Signore, sotto, Signore, un telo Vogliamo essere quella lampada, Signore, coperta da un telo Ma vogliamo essere, Signore, sopra il mobile In alto perché possa fare luce Vogliamo essere come quella città posta sopra il monte Ti chiediamo, Spirito Santo, questa sera Lavora nel nostro carattere Lavora nel nostro cuore Lavora nell'ordine delle nostre priorità, Signore E fa che ciascuno di noi, individualmente Signore, possa mettere ordine Nelle proprie idee Nelle proprie priorità Ti chiedo questa sera, Spirito Santo Che tu questa sera ci parli in modo profondo, radicale Signore, se c'è bisogno di entrare in crisi In una Santa crisi Noi siamo ben disposti, Signore, ad entrare in crisi Perché la Santa crisi ci porta ad un livello di maturità maggiore Ad una presa di coscienza e di consapovolezza Maggiore rispetto, Signore, a quella che abbiamo adesso, Signore Vogliamo entrare ad un livello superiore Vogliamo, Signore, essere figli coscienti Dei tempi che stiamo vivendo Vogliamo essere coscienti di quello che Tu vuoi fare Vogliamo essere, Signore, coscienti di quello che è la condizione Di tante persone che ancora non Ti conoscono, Padre Noi come figli vogliamo assumerci la responsabilità Di rappresentarti su questa terra, Signore Vogliamo essere ambasciatori Tuoi Vogliamo essere rappresentanti Tuoi, Signore Non vogliamo essere figli orgogliosi Ma vogliamo essere, Signore, orgogliosi di Te E rappresentarti nel modo giusto Come Cristo Gesù ti ha saputo rappresentare quando eras sulla terra Anche noi, Padre, Ti vogliamo rappresentare Come Cristo è stato un ambasciatore qua sulla terra Anche noi vogliamo essere ambasciatori Non vogliamo essere gonfi di religione Gonfi di conoscenza Signore, non vogliamo venire la domenica Mercoledì o tutte le altre attività Giusto per far numero, Signore Ma tutte le volte che ci riuniamo Noi vogliamo riunirci con una santa motivazione Che è quello di crescere nella conoscenza di chi Tu sei E di quello che Tu vuoi fare, Signore E io so che ogni volta, Signore, che noi ci riuniamo È un'opportunità che Tu crei Per portarci, Signore, a maturità E noi vogliamo maturare, Signore Vogliamo lasciare tutti quei rami secchi Tutte, Signore, quelle aree della nostra vita Che non portano frutto, Signore Che parlano di sterilità Parlano, Signore, di mondanità E vogliamo, Signore, che siano potati tutti questi rami Tutte queste abitudini, Signore Tutto questo modo di pensare, di parlare, di agire Signore, per fare spazio Signore, ad altri germogli Di portare frutto, Signore E io credo che Tu in questo tempo, Signore Stai facendo, Signore, sbocciare dei germogli dentro di noi Che si estenderanno, Signore Prenderanno, Signore, vita Diventeranno questi germogli, Signore Dei rami Che porteranno frutto E frutto in abbondanza, Signore Ma se non siamo disposti a tagliare Tutti quei rami secchi Tutte quelle abitudini secche Tutte quelle abitudini sbagliate, Padre Tu non potrai fare sbocciare cose nuove in noi E noi questa sera, Spirito Santo, siamo Signore, sono sicuro che Tu, Signore, farai sbocciare cose nuove nel nostro cuore Dentro di noi, Signore E ti vogliamo ringraziare Benedire, Spirito Santo meraviglioso Per la Tua fedeltà Per la Tua grazia Grazie, Spirito Santo Per la Tua presenza Perché se non ci fossi Tu Noi non avremmo, Signore Quest'unzione per poter ascoltare la Tua voce Per poter ricevere direttive Neanche per poter insegnare Neanche per poter predicare Perché tutto quello che facciamo Lo facciamo sotto la guida L'ispirazione, l'intuizione La sottomissione alla Tua volontà E Ti ringraziamo, Padre Per la persona dello Spirito Santo Che Tu ci hai donato Signore, noi vogliamo onorare quello che Tu onori E vogliamo rigettare, Signore Tutto quello che Tu rigetti Vogliamo amare tutto quello che Tu ami, Signore E vogliamo odiare quello che Tu odi, Signore Vogliamo odiare ogni forma di peccato Signore, vogliamo conoscere tutte quelle forme di peccato Che a volte per noi, Signore Sono solo debolezze Ma davanti alla Tua presenza Sono solo ed esclusivamente peccato Noi vogliamo odiare il peccato, Signore Vogliamo fare di tutto Per non peccare più, Signore E camminare come figli Integri, Signore Tu hai chiamato Abramo A camminare in integrità E noi, Signore, come figli Tuoi Vogliamo camminare in modo integro Ed irreprensibile, Signore Perché non per metterci in mostra Ma per onorare Te Per onorare lo Spirito Santo Per onorare Gesù E per onorare la Tua meravigliosa parola Signore, Ti ringraziamo E Ti benediciamo Nel nome potente e glorioso di Cristo Gesù il Signore Il Re del Re Amen E Amen Alleluia Dio è buono Benvenuti a tutti quanti voi Dio vi benedica Preziosi e meravigliosi Wow Cosa vogliamo fare ora? Vogliamo ringraziare il Signore Per chi Lui è Amen E vogliamo anche Offrire a Dio Se tu non ti senti di offrire Non sei obbligato Nessuno è obbligato Non obblighiamo nessuno Dio non obbliga nessuno Ma se senti nel cuore Di poter seminare Per il Suo Regno Perché Perché così? Basta Mi fermo qua Non voglio dire oltre Non voglio dire oltre Così voglio chiamare chi? La sorella Anna Maria Che viene a pregare Per l'offerta Facciamo un applauso Più forte Più forte Più forte Lei è una donna di preghiera Sa parlare tanto Lei parla poco in pubblico E sa parlare tanto in privato Ha ragione Io pubblicamente però Vi chiedo di offrire la vostra decima Fatta con tutto l'amore Che avete nel vostro cuore Padre Perché avete la certezza Che questi non sono soldi Ma sono opere Che noi faremo Per i nostri fratelli Che stanno aspettando Là fuori La dimostrazione Dei loro figli Nel nome di Gesù Amen Grazie a tutti 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 C'è un desiderio Che la nazione sia unità Dall'Ovest all'Est Dal Nord al Sud In un solo grido Ti amiamo Gesù Tu ritornerai Splendente In un solo istante Tutto cambierà La nostra speranza Che la nostra speranza Che la nazione Conosca a te Come Salvatore Signore Renderemo 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 Gesù famoso E faremo E faremo E faremo E faremo Con Lui Prodezze Renderemo 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 Gesù famoso E faremo E faremo E faremo E faremo Con Lui Prodezze Sì Noi con Gesù Faremo Prodezze Ok Il titolo Della mia Predicazione Questa sera È Raccogliere Anime C'è chi raccoglie Ferrosato C'è chi raccoglie Alluminio C'è chi raccoglie C'è il raccoglitore Che raccoglie I fogli di carta C'è chi raccoglie L'uva In questo tempo C'è chi raccoglie Le castagne C'è chi raccoglie Le susine Le pesche Ma Poi ci sono I raccoglietori Di anime Ovvero Coloro Che raccolgono Anime E Questa sera Voglio Farvi qualche domanda Quando è stata L'ultima volta Che avete raccolto anime L'ultima volta Che ti sei fermato Con una persona Per fargli fare La preghiera di salvezza Quando è stata L'ultima volta Che hai provato Emozioni Dentro di te Compassioni Per le persone Che ancora non lo conoscono Quando è stato Quando è stata L'ultima volta Che hai piegato Le ginocchia Per pregare Per Un tuo vicino di casa Per un compagno di lavoro Non per il tuo fidanzato La tua fidanzata Lascia stare Là non c'è Piegare Non c'è bisogno Di piegare le ginocchia Ma Per coloro Che ancora hanno Da ereditare La salvezza E allora Voglio darti Una notizia Se tu non lo sai Se tu ed io Siamo qua Questa sera È perché qualcuno Ha pregato Per te E per me Sela Non c'è niente Per scontato Qualcuno Forse Dall'altro Capo Del mondo Da un'altra nazione Da un altro continente Ha pregato Per te E se noi Siamo qua Io ricordo Ieri Passaggiavamo Con mia moglie Stavamo parlando Di una sorella E mi ricordavo La mamma Di questa sorella Quanto Ha pregato Per me E che pazienza Ha avuto Per me E con me Prima che E arrivassi Alla salvezza Quante volte L'ho presa In giro Dando appuntamento E non presentandomi In chiesa Per mesi E mesi E lei Non smetteva mai Di Non mollava Non perdeva La speranza Continuava Io mi ripresentavo Perché stavo facendo Dei lavori A casa sua Mi ripresentavo Il lunedì A casa sua E lei mi diceva Ti aspettavo Ieri Ma non ti è vista Sempre con il sorriso Sulle labbra E io dicevo Sa Signora Carmelina Era una persona Nell'entroterra Della Sicilia In un paese In un paese Dell'entroterra Della Sicilia Trasferita a Palermo Ma non aveva Non aveva perso L'accento Quel parlare Una persona Molta anziana Quell'accento Dell'entroterra Della Sicilia E dicevo Sa Non sono potuto venire Perché ho avuto Un imprevisto Ma di fatti Già io sapevo Il venerdì Quando lasciavo Che la dovevo Prendere in giro Non mi presentavo Ma lei Il lunedì Continuava Ad incoraggiarmi E diceva Vieni E tutta la settimana Mi predicava L'Evangelo Ricordo che Io lavorava A casa sua E lei si ascoltava Le predicazioni Dell'Apostolo Lirio Perché andeva In chiesa Dell'Apostolo Lirio E io non comprendevo Non capivo Quest'uomo Che gridava Che parlava Continuamente Dico Per me era Come se parlasse L'inglese Non comprendevo Quello che stava dicendo Ma lei Non smetteva mai Di incoraggiarmi Di pregare per me E di invitare In chiesa E se sono qua Io credo che lo sono Anche grazie Alle sue preghiere Ora noi Molto spesso Entriamo In un territorio Egoistico Non so se ci fate caso Riceviamo la salvezza Arriviamo in chiesa Abbiamo trovato Il nostro equilibrio Ci siamo sposati Abbiamo trovato Il lavoro Abbiamo comprato La casa Abbiamo fatto tutto Abbiamo trovato Il nostro equilibrio E ringraziamo Il Signore Perché abbiamo trovato Il nostro equilibrio E ci dimentichiamo Delle persone Invece che stanno Soffrendo Ma Fintanto che Non ci tocca Poi personalmente Allora Ieri Già iniziato Tutto questo Travaglio Perché Ricordandomi Di questa sorella Passando Da Civitale Del Friuli Lo Spirito Mi ha ricordato Del 2008 12 anni fa In questo periodo Mese più Mese meno Cosa accadeva Civitale Del Friuli 12 anni fa Dopo aver distribuito Per Manzano Per Coto San Giovanni Al Natisone Butrio Così così Sono andato a finire Anche a San A Civitale Per Distribuire Volantini Porta per porta Porta per porta Porta per porta E lo Spirito Santo Mi ha ricordato Questo E mi è venuta Una santa gelosia Ho detto Signore Non sto facendo Più niente Per il territorio Avevo iniziato A Manzano Perché abitavamo A Manzano Butrio San Giovanni Al Natisone Per Coto Camino Ecco Non Camino In Siciliano Nel senso che Camino in un paese Poi sono andato A finire Siamo venuti a Udine Con mia moglie Siamo andate A finire A Civitale Del Friuli Lasciando Volantino E detto Signore Nell'ultimo periodo Io non sto facendo Più niente Non sto Benedicendo Più Il territorio E non sto Permettendo Alle persone Di poter Venire alla conoscenza Dell'Evangelo Iniziai Ad entrare In crisi E questa mattina La cosa che Mi ha fatto Rabbrividire Ho lavorato Nella mia vita Continuo a Lavorare Ancora Nella mia anima Perché mi arriva Un messaggio Disperato Credo che a qualcuno Gli è arrivato pure Dice Per favore Chiedo Preghiera Per una Determinata Persona Che si trova In condizioni Disperate Perché ha tentato Il suicidio Ha fatto Questo Allora Ho fatto Ho fatto due Tre respiri Profondi E ho detto Va bene Rispondo Adesso Ho detto Ma guarda Un po' Questa Ha avuto Per anni La possibilità Di poter Evangelizzare Curare Strappare Anima Dall'inferno E si è presa cura Della sua vita Di condurre Una vita Non cristiana E nel momento Del bisogno Perché è una persona Che gli interessa Un familiare Chiede aiuto È comodo Vero? Dice la sorella Allora Fin tanto Che non ci tocca Personalmente E allora Tutto va bene Ma quando Poi ci tocca Personalmente Perché è una Persona Noi cara E allora Là come dire Avviene la magia Ci svegliamo Dal sonno Chiediamo aiuto E i fratelli Dobbiamo essere Tutti presenti Per pregare Ma non lo puoi fare Nel momento Della pace Devi aspettare Per forza Che arriva la guerra Devi aspettare Per forza Che ci sia Un serio problema Per poter pregare Per poter andare A trovare I tuoi parenti I tuoi familiari I tuoi amici I tuoi vicini Per parlare di Gesù Devi farlo Solo ed esclusivamente Quando ti viene toccato Una persona A te cara Allora Là Comprendiamo Che siamo Siamo Non dico siete Siamo Lontani Dal cuore Paterno Di Dio E non comprendiamo Il sentimento Del suo cuore Quello che il padre Prova Per le persone Che stanno Morendo Cioè ma noi dice Grazie a Dio Sono salvato Sono nella chiesa In un luogo protetto Fintanto che Non arriva la persecuzione E quando arriva La persecuzione Come nella prima chiesa Quando arrivò La persecuzione La chiesa iniziò Ad evangelizzare Iniziò a diffondersi Perché tutti Furono dispersi E tutti Nelle regioni Dove andavano Nelle città Dove andavano I primi discepoli Iniziarono a predicare Allora è importante Se tu sei qua Ascolta Io voglio portarti In un livello Di maturità Per comprendere Quello che c'è Nel cuore del padre Non voglio ferire Nessuno Ma voglio portarti In un senso Di irresponsabilità Come io Voglio mettermi In una condizione Di irresponsabilità Perché se Dio Mi ha portato qua Non mi ha portato qua Per curare i miei interessi Ma per curare I suoi interessi E i suoi interessi Sono quelli Di predicare L'Evangelo Del Regno Perché viviamo In tempi Dove le persone Sono impazzite E tutto quello Che tu tralasci Oggi Sarà un problema Per te domani La gente È impazzita Non so Se avete ascoltato Se avete letto Se avete sentito Nel telegiornale Di quella coppia Che è stata uccisa Di quei giovani Che sono stati uccisi A Lecce Avete letto Avete letto Chi è che li ha uccisi Avete saputo Chi li ha uccisi Un ragazzo A 21 anni Quanti anni c'ha Isa Un ragazzo Ascolta Tu sei una ragazza Non sei un ragazzo Un ragazzo A 21 anni Ha ucciso Una coppia Di giovani Perché Vedeva Questa coppia Di giovani Felici Per gelosia Perché loro Erano felici E lui Era insoddisfatto E ha avuto La macchinazione Di girare Tutto il quartiere Per controllare Dove erano Le telecamere Affinché non fosse Scoperto Per andare Entrare a casa Ed uccidere Questa Giovane coppia Allora Questo ci fa Comprendere Ragazzi Quanto c'è Bisogno Urgenza Di predicare L'Evangelo Perché la gente È impazzita La gente È fuori di testa E fin tanto Che non ci toccano Queste cose Noi siamo comodi Siamo in un luogo Protetto Dio ci protegge Ma abbiamo Anche i nostri parenti Che non sono salvati E se tocca Uno dei nostri familiari Cosa fai? Chiami urgentemente Pastore Per favore Prega Inizia a chiamare L'Apostolo Lirio L'Apostolo Enzo Inizia a chiamare I profeti Inizia a chiamare Tutti Pregate Intercedete Perché c'è Un grande pericolo Oppure ci dobbiamo pensare Ora a predicare L'Evangelo E l'Evangelo È buona notizia Un ragazzo A 21 anni Si è distrutto La vita Perché oltre a farsi il carcere Si riporterà Nella coscienza Quello che lui ha fatto Il giorno in cui I suoi occhi si apriranno E comprenderà Quello che ha commesso Si porterà vita Un peso Nella coscienza Di avere fatto Premeditato Un duplice Omicidio Di due Compagni di casa Coinquilini E il diavolo Metterà Continuamente Sensi di colpa In quella persona Sensi di colpa Sensi di colpa Perché tu Sensi di colpa Senza di colpa No 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 Non sa Ora li togliamo I sensi di colpa Metterà In quella persona Non in gloria Metterà In quel ragazzo Sensi di colpa Sensi di colpa Sensi di colpa Per quello Che lui ha commesso Fintanto che Poi non arriva Cristo Gesù Ma Cristo Gesù Cambia il suo spirito Non cambia Il suo stato dell'anima I suoi pensieri Non cambiano Da un giorno all'altro E questi Cari miei È responsabilità Della Chiesa Potere predicare L'Evangelo Del Regno Alle persone Perché Non commettono Atti del genere Ragazzi Perché la gente Impazzita Può essere Il tuo vicino Di casa Può essere Quello che incontri Con la macchina Perché stai facendo Un incidente Può essere Quello che incontri Il supermercato Può essere Il tuo compagno Di scuola Può essere Il tuo collega Di lavoro Può essere La qualsiasi persona Perché tu guardi La persona Esteriormente Ma quello che sta Premeditando La persona dentro Non lo sai È compito Dei credenti Evangelizzare La Bibbia dice Noi abbiamo Un esempio Per eccellenza Che è il nostro Signore Gesù Cristo E la Bibbia dice In Giovanni Capitolo 6 Versetto 38 Infatti Leggo Dalla versione Parole e vite È una versione Più aggiornata Che è più Comprensibile Per il linguaggio Che noi usiamo Oggi Ma Il contesto È sempre Lo stesso Il significato È sempre Lo stesso Giovanni Capitolo 6 Versetto 38 Dice infatti Sta parlando Gesù Sono venuto Qua dal cielo Per fare La volontà Di Dio Che mi ha Mandato Non Perseguire La mia strada Gesù Sapeva Chiaramente Da dove era venuto Dove era andato Da chi era Stato mandato Tu devi Sapere Da dove sei venuto Dove sei arrivato E che ti ha mandato È quello che devi fare Dice Non sono venuto Qua per seguire La mia strada Non sono venuto Io qua Io quando Stavo pregando Era a Palermo Stavo chiedendo A Dio Signore Dov'è che hai preparato La benedizione Per me Ma per benedizioni Io intendevo Benedizione materiale Lavorativa Soldi Successo Posizione E Dio Mi ha detto Di venire a Udine Quindi lo so Che Dio Mi ha mandato qua E quando sono arrivato Qua Io Stavo iniziando A perseguire La mia strada Ma poi Dio Mi ha detto Di prendere Un'altra strada La mia strada Era quella Di avere successo Nel lavoro Fare soldi Riconquistare Quello che avevo perso Quello che desideravo Posizione Azienda Operai Lavoro Cantieri Palameccanica Trattore Gru Tutto questo Dipendenti Ufficio Ma Dio Se ero venuto qua Con un'intenzione Ma Dio Quando sono venuto qua Ha cambiato i miei piani E Gesù La Bibbia dice Capitolo 6 di Giovanni Versetto 38 Infatti Sono venuto Qui dal cielo Per fare La volontà Di Dio Che mi ha mandato Non perseguire La mia strada Quindi noi Dobbiamo avere Consapevolezza Da dove veniamo Dove siamo arrivati Qual è la volontà Di Dio E la scelta Che noi dobbiamo fare Sela Da dove sei venuto Dove sei arrivato Sai cosa Chi ti ha mandato Sai cosa devi fare Stai perseguendo La tua strada Le tue idee O quello che Dio Vuole fare Ok Però Molto spesso Possiamo anche Sbagliare Veniamo Tanti fratelli Tanti fratelli Tante sorelle Sono arrivati Qua a Udine Da altri paesi Da altre nazioni Da altri continenti Sono arrivati Disperati Sono arrivati Senza lavoro Sono arrivati Senza marito Sono arrivati Senza moglie Quando sono arrivati Qua si sono sposati Hanno trovato Lavoro Hanno trovato Una casa E si sono Dimenticati Del Signore Perché la loro Priorità Non è il Signore Che li ha mandati Ma la loro priorità Sono altre cose Gesù sapeva Benissimo Infatti Sono venuto Qui Sulla terra Dal cielo Per fare La volontà di Dio Che mi ha mandato E quando noi non ubbidiamo Al mandato Che Dio ci ha dato Siamo in Disubbidienza La disubbidienza Ci porta al Il peccato Ci porta Ad isolarci da Dio Isolandoci da Dio Arriviamo alla È molto semplice Sono cose elementari Però li dimentichiamo Molto spesso Giovanni capitolo Sempre 6 Al versetto 39 Dice così È questa La volontà Di Dio Padre Che Di tutti quelli Che Egli Mi ha dato Non se ne perda Neppure Uno Ripeto È questa La volontà Di Dio Padre Che di quelli Che Tu mi hai dato Non se ne perda Neanche uno Gesù Aveva Responsabilità Su quello Che Dio Gli aveva affidato E lui Faceva in modo E stava Trasmettendo Ai suoi discepoli Quello che c'era Nel cuore del Padre La sua responsabilità Che tutti coloro Che Dio Gli aveva affidato Non se ne perdesse Neanche uno Ma che tutti Quelli che lui Incontrava Tutti quelli Tutti quelli Che lo seguivano Lui faceva in modo Di portarli al Padre Ora la stessa cosa Facciamo anche noi Quanto persone incontri Durante il giorno Fa in modo Non mi rispondere Fa in modo Che le persone Arrivino A Gesù Quanto persone Incontri Durante il giorno Sono opportunità Sono occasioni Persone che hai visto Una volta E non li hai visti mai più Persone che hai visto Due volte A tutte le persone Hai dato l'opportunità Di poter conoscere Gesù Qualche volta Quando non ti sentivi Non le hai dato La possibilità Perché il tuo stato D'animo Dice non mi va Di parlare di Gesù Perché A volte Noi ci Disconnettiamo Pensiamo A noi stessi Piuttosto che Pensare Alla volontà del Padre Che mi ha mandato Da dove siamo venuti Noi siamo venuti Dal cielo Non eri materia Eri spirito Hai avuto bisogno Come spirito Di entrare in un corpo C'è un'anima Ci sono dei sentimenti C'è una volontà E lo spirito Ha bisogno Del corpo Dei piedi Per potersi muovere E arrivare Alle persone E parlargli Di Gesù Ora non siamo noi Come anima Che parliamo Alle persone Perché la nostra anima È continuamente In travaglio Processata Ma il nostro spirito Con lo spirito Con lo spirito santo Desidera Parlare alle persone Ma quando noi Ma quando noi siamo Connessi solo Con la nostra anima Diciamo Oggi non mi sento Non mi piace È un mio nemico È una mia nemica Sicuramente questo Non gli interessa Niente di Dio E quindi Evito di parlare Perché già Lo vedo nel viso Che non gli interessa Niente di Dio Tu guardi nel viso Ma non conosci il cuore E la Bibbia dice Che è Dio Che scrute i cuori E quindi Dio ci parla Ci vuole dire Qual è il cuore Di una persona Ma noi siamo Accentrati E concentrati Solo sulla nostra Anima E la responsabilità Che Gesù aveva Che nessuno Di tutti quelli Che il padre Gli aveva affidato Si poteva perdere Sai io ti parlo Quando avevo l'azienda Se io Lo faccio ancora Ma lo voglio Continuare a fare Con maggiore franchezza Con maggiore tempo Di parlare Alle persone di Gesù Quando io avevo l'azienda Un giorno Lo Spirito Santo Ho detto Ma io Loro sanno Che io sono un credente Prego per loro Quando hanno bisogno L'evangelizzo Ma un giorno Ho fatto una scelta Di pagare di tasca mia Un'ora Ai dipendenti Per farli fermare Per predicare l'Evangelo Non li ho costretti A rimetterci di tasca loro Ma io continuavo A pagargli loro E gli dicevo Però tu stai fermo Io ti devo predicare l'Evangelo Non li ho costretti Ma li ho invitati Su 32 dipendenti 28, 29, 27 Non mi ricordo adesso Con precisione Puntualmente Tutte le settimane Si fermavano Per ascoltare La parola di Dio Ok E ragazzi E meno ragazzi Hanno aperto il cuore A Gesù Di cui un gruppo Di questi ragazzi Il prossimo mese Saranno in Friuli Venezia Giulia Che verranno ad evangelizzare Saranno a Pordenone Per evangelizzare Pensa un attimino Se io non avessi preso La decisione Di parlare a queste persone Di Gesù O avessi Scusami l'espressione Ma voglio essere Molto franco e libero Se avessi pensato Più ai soldi Che invece A investire Per il regno di Dio Quanti di noi Facciamo quest'errore Quanti di noi Abbiamo La mente elastica Per dire Ma i soldi Che cosa mi interessa Rispetto All'eternità Di una persona Quello che Dio Può fare Però abbiamo ancora Una mentalità Come dire Prima vengo io I miei interessi Prima vengo Prendo cura Del mio corpo Devo andare in palestra Devo curare Il mio aspetto Prima viene la mia casa Prima viene la mia macchina Prima viene questo Sapete con mia moglie Ci abbiamo Tra virgolette Permettetemi di dirlo Non è proprio così Perché abbiamo fatto Un investimento Abbiamo investito Tre macchine Per l'opera Andare a prendere Andare a lasciare Chilometri Avanti e indietro Arrivare Fare ogni macchina 200.000 km Non l'abbiamo fatto Per andare A passeggiare noi Ma per investire Per il regno di Dio Mettere a disposizione Il furgone Abbiamo fatto di tutto Mercedes Golf Furgone Di tutto abbiamo messo Perché L'amore Perché nessuno Si possa perdere Non per chissà Quale altro motivo Ma affinché tutti Potessero venire Alla conoscenza Del figlio di Dio Giovanni capitolo 4 Versetto 34 Stiamo finendo Gesù aveva evangelizzato Una samaritana Aveva avuto Un incontro soprannaturale La samaritana Gli aveva detto Come mai Tu che sei giudeo Parli con me Che sono una samaritana Gesù ha trovato Un'opportunità Un ganci Iniziò a parlare Ha profetizzato Ha avuto una parola Di conoscenza Per la sua vita L'evangelizzato Questa tornò Nel suo paese Portò tutti quanti I suoi compaesani A vedere Gesù Gesù evangelizzò tutti Nel frattempo Vennero i discepoli Che erano andati A comprare il mangiare E quando i discepoli Tornarono E riportarono Il mangiare a Gesù Inforzavano Dicevano Gesù Gesù ti ho portato La pasta al forno Guarda abbiamo trovato Una rosticceria aperta Abbiamo comprato La pasta al forno Mangia 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 Gesù Lascia stare queste persone Mangia Guarda ci sono Bei cannoli siciliani Lascia stare le persone E Gesù Gli risponde Gli dice Allora Gesù Spiego loro Il mio cibo È fare la volontà Di Dio Che mi ha mandato È completare La sua opera C'era un'opera Che Dio aveva iniziato E che Dio inizia Nei cuori delle persone Che lo Spirito Santo Inizia nei cuori delle persone Ma va completata Perché io credo Che ci sono persone Che stanno cercando Dio Con tutto il cuore Ma non può essere Completata l'opera Se non c'è la bocca Che parla Se non c'è la persona Che spiega Se non ci sono i piedi Che camminano Se non paga il biglietto Del pullman Per andare Della persona Se non mette Il carburante Nella macchina Per farsi Tolmezzo Udine E Udine Tolmezzo Ogni giorno Le persone Non vengono Alla salvezza E Gesù Diceva Così Allora Spiego loro Il mio cibo Di cosa Ci cibiamo Noi Ci cibiamo Del lavoro Ci cibiamo Degli affari Ci cibiamo Della chiesa Sapete che è uno degli inganni Per molti Di noi Predicatori Pastori Ci cibiamo Della chiesa Quanto persone hai Io non ho nessuna persona Ce le è Gesù le persone Ci cibiamo Da quanto sedi E ci sono occupate La domenica I numeri Questo è un inganno Gesù diceva Il mio cibo È fare La volontà di Dio Che mi ha mandato È completare La sua Opera Non la mia opera Ora mettiamoci Un attimino In discussione Perché vieni qua Per un tuo fine personale O per l'opera di Dio Facciamoceli tutta Questa domanda Perché io sto predicando Sto predicando Per me O sto predicando Per portare L'opera di Dio Avanti Allora questa domanda Ce la dobbiamo fare tutti Perché io sono qua Cosa sto facendo Sto lavorando Per un'opera mia Perché voglio ricevere Gratificazione Da qualcuno Dalle persone Dei fratelli Della chiesa Del pastore Che mi ha mandato O voglio Completare L'opera sua Quello che Dio Ha iniziato Nella tua vita Nella nostra vita Lo vuole portare A compimento Quello che Dio Ha iniziato Nel territorio Del Friuli Venezia Giulia Dio lo vuole portare A compimento Ma la parola di Dio Dice se non c'è Nessuno che predica Come si salveranno Le persone Gli studenti A scuola Devono predicare La parola di Dio Gli operai Nei campi Nel posto di lavoro Devono predicare La parola di Dio Devono seminare La parola di Dio Perché ci sono persone Che sono alla disperazione Perché forse Sono depressi Quanti ti sorridono Ma dentro Stanno bramando Invece un suicidio Stanno meditando Un suicidio Forse stanno meditando Di lasciare Il proprio coniuge Il proprio marito La propria moglie Forse hai una collega E sta premeditando Senza che te lo dica Di abortire E non ti dica Niente a te Allora È una cosa mia Credo che la Chiesa Deve svegliarsi Da questo sonno Spirituale Che ha Vado in Chiesa Così metto a posto La mia coscienza No la coscienza Ci deve essere scossa Quando noi arriviamo In Chiesa Non che la mettiamo A posto Come a dire Ma cosa sto facendo Quando la parola di Dio Arriva Ci deve misurare E deve dire Un attimino Ma cosa sto facendo Effettivamente io Sto servendo Dio O mi sono addormentato Oppure perso di vista Domenica Dio ci parlerà Della vista affuscata Cosa sto facendo Realmente io E un po' più avanti Gesù dice Al versetto 35 Voi pensate Che la mia titura Non comincerà Prima dell'estate Fra quattro mesi Quindi quando Gesù Stava parlando Era circa Il mese di febbraio La mia titura Il grano si miete Ai primi di giugno Nel mese di giugno E quindi Gesù Per fargli comprendere Ai discepoli I tempi E le stagioni Stava dicendo Voi ragionate in questo modo Due e quattro sei Voi ragionate in questo modo E dice Ancora il tempo Della metitura Non è arrivato Ma Gesù Gli risponde E gli dice così Ebbene Guardatevi intorno Sabato mattina Siamo andati a fare colazione Con mia moglie Piazza San Giacomo E quando vedevo Le persone là In piazza Dicevo Signore Quanto persone Ancora Devono ricevere Gesù Ma guarda Quanto persone Ancora devono Ascoltare La predicazione Dell'Evangelo Io a volte Vado al cittafiero Andavo al cittafiero Quando c'erano più persone Dicevo Ma questo fiume di persone Ma chi parla A tutte queste persone Quanto persone Ancora devono ascoltare Di Cristo Gesù Quanto persone Ancora devono venire Alla conoscenza Di Cristo Gesù E a volte noi diciamo Ancora non è il tempo Di parlare Ancora non è il tempo Di evangelizzare Ancora non è il tempo Della raccolta Gesù stava dicendo Voi non guardate Non fate calcoli umani E dite Ma ancora non è il tempo Della raccolta Ancora non è arrivato Il tempo Della raccolta E Gesù Gli stava dicendo Voi dite ci sono ancora Quattro mesi E poi viene la metitura E Gesù Gli ha detto Guardati attorno Quanto persone Realmente attraverso Una samaritana Quanto persone Hanno ricevuto È la stessa cosa Dio ti darà Un gancio Una persona Perché verranno Migliaia di persone Alla salvezza Dio ti farà Incontrare una samaritana Dio ti farà Incontrare una persona Strategica Che porterà Tante persone Alla salvezza E Gesù Gli disse Così Ebbene Guardatevi intorno E io ti dico Guardati intorno Quanto persone Ci sono attorno a te Che hanno bisogno Di Gesù Dice Veri e propri Campi Di anime Sono Già pronti Per la Mietitura Per essere raccolti A volte noi Calcoliamo E diciamo Ma questo non verrà mai Al Signore Gli errori Li facciamo tutti Qualche giorno fa Abbiamo fatto Una consulenza Qualche Tempo fa Abbiamo fatto Una consulenza Con mia moglie Con una persona E abbiamo detto Adesso Noi sicuramente Perderemo tempo Abbiamo fatto Noi anche a noi Questo pensiero Abbiamo peccato Noi sicuramente Perderemo tempo Però Per ubbidienza Dobbiamo andare Bene Vi dico Abbiamo ubbidito Ed è stato buono Che abbiamo ubbidito Siamo andati Non abbiamo dato Ascolto Ai nostri sentimenti Né ai nostri pensieri Né a quello Che abbiamo confessato Ma quando siamo andati là Lo Spirito Santo Ci ha messi K.O. Era tutto il contrario Rispetto a quello Che noi C'eravamo fatto Il pensiero Che avevamo messo Nella mente Dicevamo Con questa Stiamo perdendo Solo del tempo E l'abbiamo compreso Che dobbiamo Annichilire Noi stessi Perché Cristo Sia manifestato Attraverso di noi Non fare Ragionamenti umani Come facevano Già I discepoli Gesù Ed è stato Ci sono veri E propri Campi Di anime Sono pronti Per la mietitura L'altro problema Dov'è? Ma anche se Gesù raccoglie E questi campi Vengono raccolti Ma tu sei pronto Per curare persone L'ultima volta Che hai detto E metti Si è messo così Hai detto Signore Dammi il tuo cuore paterno Dammi il tuo cuore Di madre Signore Per capire le persone Quando è stato E se mai L'hai fatto Perché le persone Non sono Burattini Le persone Io non vorrei stare Con una persona Che mi tratta Come un burattino Come un bicchiere Lo prendo di qua Lo porto Sul tavolo Dal tavolo Lo porto In cucina Dal lavello Lo metto in lavastoviglia Sono una persona E io ringrazio Dio Per chi mi ha curato Per chi mi ha dato direzione Non sempre Mi ha abbracciato Non sempre Mi ha accolto A braccia aperte Non sempre Mi ha trattato Con dolcezza A volte mi ha dato direzione Che alla mia carne Non piaceva Però ringrazio Dio Per questa direzione Per questo cuore paterno Perché un vero padre Non sempre Abbraccia Un vero padre Da direzione E se Dio raccoglie Questa persona Tu sei pronto Per curare Questa persona Ti stai preparando Se i tuoi compagni Di scuola Dovessero venire Tre quattro compagni Di scuola Alla salvezza Ma tu ti stai preparando Come giovane A sviluppare Il cuore Pastorale O pensi Che deve essere La targhetta O la maglietta Che devi metterti qua Sono il pastore Perché tu Puoi Accelerare Il processo Di Dio Ma puoi anche Rallentare Il processo Di Dio Perché quando Arrivano persone Alla salvezza Nella chiesa Hanno bisogno Di essere curate Un bambino Quando nasce Ogni due ore e mezza Ogni tre ore Deve mangiare La mamma Deve stare sveglio Deve stare sveglia Per dare da mangiare Al bambino La mamma Lo deve allattare E gli fa male Tante volte il seno Mi fa male il seno Ma per amore Si dà al bambino Non dorme la notte Si mette a letto E il bambino Si è addormentato Ma sta Con un occhio Addormentato Chiuso E un occhio aperto Per guardare il bambino E sai La stessa cosa Avviene quando Hai figli spirituali Quando tu sviluppi Un cuore paterno E un cuore materno Avviene la stessa cosa Pensi Cosa sta facendo Ma perché Perché non sta avvenendo Ma perché si sta comportando così Ma perché sta facendo così E un'anima Che arriva alla salvezza Ti deve costare Come le doglie di parto Non c'è niente Per scontato A una mamma Gli brucia Al papà un po' meno Ma alla mamma Gli brucia Il proprio figlio La mamma Ha un sentimento Diverso Rispetto al papà Gli brucia Il proprio figlio È più protettiva La mamma Verso i propri figli E questo ci parla E questo ci parla anche Del cuore paterno Di Dio Che a Dio Gli bruciano I propri figli Dio brama Per questi bambini Che verranno Alla salvezza E a chi li affiderà Dio a questi bambini Li può affidare a noi Questi bambini Poniti la domanda Ma se vengono persone Dio me li può affidare In questo momento Questi bambini Io mi saprò Prendere cura Di questi bambini O sono accentrato Ancora su me stesso Egocentrico Io 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 Prima vengo io Prima devo mangiare io Prima devo dormire io Prima la mia casa Prima i miei affari Prima i miei sogni Prima i miei progetti E poi I miei figli Sai che Dio Guarda i nostri cuori Dove noi non riusciamo a guadere Dove un pastore Non riesce a guadere Apparentemente Dio Riesce a vedere Nel cuore nostro Cosa c'è Per quale motivazione Lo stiamo facendo Qual è la motivazione Se siamo pronti O non siamo pronti E se noi Non ci prepariamo I campi Sono pronti Da mietere Ma Gli operai Non ci sono Meglio ancora I padri Non ci sono Le madri Non ci sono Perché L'apostolo Paolo Parlando Ai Corinzi Gli dice Anche se avreste Diecimila educatori Non avreste Diecimila padri E quello che manca Ascoltami Mancano i papà Mancano le mamme E tu ed io Dobbiamo pregare Perché lo Spirito Santo Ci possa dare Un cuore paterno Un cuore di mamma Che quando vengono Le persone Li possa abbracciare Li possa curare Possa capire Cosa c'è dietro Quell'apparenza Cosa c'è dietro Quella facciata Possa capire Qual è Il proposito Di Dio Per quella persona Ma lo puoi capire Se c'è un sentimento Dentro di te Non soltanto Perché stiamo Facendo Reclutando Noi non reclutiamo Nella Chiesa Noi vogliamo Sviluppare Cuore di padri E cuore di madri Al versetto 36 La Bibbia dice I miei editori Ricevono La giusta paga Per raccogliere Le anime Immortali Per il cielo Ripeto Dice I miei editori Ricevono La giusta paga Per raccogliere Le anime Immortali Per il cielo In sintesi Gesù stava insegnando Quando noi Lavoriamo Per il regno Di Dio Saremo retribuiti Gesù stava insegnando Quando noi Ci affatichiamo Per l'avanzamento Del regno Di Dio Per strappare Una sola Anima Strapparla D'altizione Dell'inferno E portarla a Dio Ci sarà retribuito Non c'è niente Che non ci sarà retribuito Perché stiamo Lavorando Per il regno Di Dio Perché ogni Persona Che è qua Sulla faccia Della terra È tanto Amata da Dio Il problema È la nostra mente Che non amiamo Il problema È la nostra mente Non rinnovata Il problema È la nostra mente Che non è allineata Con la mente Di Dio Ma ogni persona Che è sulla faccia Della terra Dio la ama Ogni persona Che è sulla faccia Della terra Il più scapestrato Il barbone Quello che ha commesso Rapine Omicidi Quello che ha abusato L'omosessuale Le lesbiche Di tutto Dio li ama Uno dei problemi È il processamento Della Chiesa Che dobbiamo essere processati Perché noi cataloghiamo Le persone Questa non mi piace Questa mi piace Questa mi piace Quella un po' così così E un po' quella Un po' così così La Chiesa deve essere processata E la Chiesa non è il locale La Chiesa siamo noi Perché Cristo Gesù Ha pagato il sangue Sulla croce Per la salvezza Di ogni persona E Dio ama Gesù Quando era sulla croce La Bibbia dice Che stava guardando La moltitudine di persone Quelli che già erano Sulla terra E quelli che sarebbero Venuti sulla terra Ora il problema Sta a noi Noi stiamo guardando Quello che Gesù Sulla croce guardava O stiamo guardando Solo noi Poniti la domanda Quanto ti vergogni Di predicare l'Evangelo Seconda Timotio Capitolo 2 Versetto 8 L'Apostolo Paolo Padre Meraviglioso Scrive A suo figlio Timotio Mentre si trovava In crociera Con la costa Smeralda Era in crociera Allora c'era Si stava facendo Una crociera E Paolo Era messo Nel solarium Dice Non ho niente da fare Scrivo una lettera A mio figlio Timotio Paolo si trovava In prigione E dice così La Bibbia Scrive a Timotio La seconda lettera Studiosi dicono Che forse Nella prima lettera Timotio Non aveva capito Alcune cose E Paolo Gli scrive Una seconda lettera Come a dire Senti Vedi di svegliarti E vedi di insomma Di mettere a posto La tua vita E gli scrive così Dice Non vergognarti Dunque Della testimonianza Del nostro Signore Né di me Suo prigioniero Ma soffri Anche tu Con me Per l'Evangelo Sostenuto Dalla potenza Di Dio Paolo Paolo sicuramente Stava scrivendo A Timotio Perché Timotio Si era spento Non stava evangelizzando Più Aveva vergogna Di parlare Dell'Evangelo Aveva vergogna Di parlare Di suo padre E' come Quando voi Dove vai in quella chiesa In quello che grida Tu dici No 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 Io non ci vado No sai perché ho visto Su facebook Quello che grida Sempre Quando questo è fuori Di te Dici No no Io non ci vado Stai attendo Se vieni E poi ti trova qua Dici Ma come Mi dicevi che non venivi qua E quindi Paolo come papà Gli dice Non vergognarti dunque Della testimonianza Del Signore nostro Sai io non mi vergogno Di parlare di Gesù Perché so da dove Lui mi ha tratto fuori So quello che Gesù Ha fatto nella mia vita So da quante cose Dio mi ha liberato So da quante cose Dio mi ha salvato Io forse se Non avrei riconosciuto Cristo Gesù Non sarei qua Sulla terra Forse mi avrebbero ammazzato Forse mi sarei Tolto la vita io Forse sarei Un mendicante Forse Avrei Non avrei più stomaco Non avrei più fegato Non avrei testa Non lo so Io so quello che Gesù Ha fatto nella mia vita E per questo Ne parlo con Permettetemi con orgoglio Perché so che è stato Gesù a cambiare la mia vita Non sono stati soldi Nella posizione Nel lavoro Nel successo Nel sesso Nelle donne Negli uomini Nè questo Nè quello Non è stato niente A cambiare la mia vita Quello che ha cambiato La mia vita È stato Cristo Gesù È stato Lui Che ha cambiato la mia vita Per questo Non ho vergogna Di parlare di Lui Neanche di quelli Che mi hanno portato All'Evangelo E Paolo stava scrivendo Non avere vergogna Della testimonianza Del Signore Gesù Dilla alle persone Che ti ha cambiato la vita Cosa è accaduto Nella tua vita Nel momento in cui Ha detto Gesù Io ti ricevo Nella mia vita Come mio personale Signore Salvatore La tua vita Deve essere un libro aperto Sia come ti comporti Che come parli Se io andassi a scuola E mi trovassi In mezzo a tutte quelle persone Avrei La possibilità di parlare Ma io parlerò A tutti i miei compagni Io farei degli biettini Dei posticchi Tipo come questi Che ho dietro il telefono Entrerei il primo Lo metterei sul banco Sul tavolo Sul banco del mio compagno Lo lascerei all'ingresso Lo metterei Io lo darei al bidello Io lo darei al custode Io lo darei al mio insegnante Se io guidassi il pullman Lo farei nel pullman Se io lavorassi in un negozio Lo farei in un negozio In tutti i modi possibili Immaginabili Per poter predicare Cristo E perché la parola di Cristo Arrivi al cuore Di ogni persona Non arrivi io Non la chiesa gospel center Non un'organizzazione Né una denominazione Perché non è la chiesa Che cambia Non è la denominazione Che cambia Non siamo noi Che cambiamo le persone Ma è Cristo Gesù Che cambia la vita Delle persone E noi dobbiamo rappresentare Lui e dire Guarda la mia vita È cambiata Dal momento in cui Io ho detto Gesù Io ti ricevo Nella mia vita Come mio personale Signore prima Significa che io Mi assoggetto Alla tua volontà Per la conseguenza Ricevere la salvezza Non ho detto Io ti ricevo Come salvatore Solo punto e basta Mi hai salvato Che bello Oh io sono stato salvato Ma non ho un padrone No la prima cosa E lui è diventato Il mio padrone E il mio padrone Mi ha guidato Per ricevere la salvezza A volte A volte noi scambiamo Lo vogliamo come salvatore Come signore No Io non mi assoggetto a niente Vogliamo il salvatore Ma senza il signore No Quando noi facciamo fare La preghiera di salvezza Diciamo Gesù Io ti ricevo Nella mia vita Come mio signore Quindi io sono Un servo Per ereditare E ereditare La salvezza Perché la Bibbia Non chiunque Dirà signore Signore Entrerà al regno Dei cieli Ma chi avrà fatto La volontà del pastore Entrerà al regno Dei cieli Chi avrà fatto La volontà del profeta Entrerà al regno Dei cieli Chi avrà fatto La volontà Dell'insegnante Dell'apostolo Entrerà al regno Dei cieli Gesù disse Chi avrà fatto La volontà del padre mio Sarà colui Che entrerà Nel regno Dei cieli Allora dobbiamo Stare attenti Ma stiamo facendo Realmente la volontà Di Dio O la nostra Di cosa Siamo Ripieni Quando incontri Una persona Che si trova Nel bisogno Cosa fai Mi tieni Per favore Il microfono Quando incontri Una persona Che si trova Nel bisogno Cosa fai Quando sei spremuto Cosa c'è Dentro di te Sei secco Secca O c'è qualcosa Che esce fuori Da che parte Stiamo Ragazzi Provi Sei secca Che non provi Compassione Per le persone O versi lacrime Per la salvezza Delle persone Chiesa di Cristo In che posizione Siamo Da che parte Stai Provi Sei secco Non provo Niente Per le persone Indifferenti Oppure Versi lacrime Quei dici Mamma mia C'è qualcosa Che batte E versi lacrime Dici signore Voglio Signore Verso lacrime Per questa persona Compassione Per questa persona Cosa sta accadendo Nella tua vita Nella mia vita Cosa sta accadendo Cosa c'è Siamo asciutti Siamo aridi Oppure c'è ancora Spremendo C'è qualcosa Dentro di noi Cosa sta accadendo Nella nostra vita Cosa sta succedendo Nella nostra vita Ci mettiamo La coscienza a posto Per venire in chiesa O realmente Vogliamo fare La volontà di Dio Ci vergogniamo Dell'Evangelo Siamo pronti Ad essere martiri Dell'Evangelo Dice Non vergognarti dunque Della testimonianza Del Signore nostro Gesù Cristo Né di me Suo prigioniero Ma soffri Anche tu con me Lascia Non ti preoccupare Moira Soffri anche tu Con me Per l'Evangelo Sostenuto Dalla potenza Di Dio Non siamo noi Che sosteniamo L'Evangelo È la potenza Di Dio Che sostiene L'Evangelo Stesso Non siamo noi Che sosteniamo La Chiesa È Cristo Che sostiene La Chiesa Quando la Chiesa Predica Cristo Paolo Un giorno Disse Saulo Stava perseguitando La Chiesa Lasciate stare Lasciate Si distraggono Tutti Si distraggono Lasciate Lasciate Non ti preoccupare Giro di qua Saulo Stava perseguitando La Chiesa Di Cristo La Chiesa Era minacciata E Gesù Lui stesso È intervenuto Sulla vita Di Saulo Chiamandolo Incontrando Dicendo Saulo Saulo Perché mi perseguiti E Saulo Gli ha detto Chi sei tu Signore E Gesù Stesso Io sono Quel Gesù Che tu Perseguiti Ma Saulo Chi stava Perseguitando Gesù Cosa gli dice Perché mi Perseguiti Perché la Chiesa È Gesù È tutt'uno A volte Noi vogliamo Difendere la Chiesa È Gesù Che difende La Chiesa Dice Ma sai Parlano male Di te Pastore Di apostolo Questo È Gesù Che difende La Chiesa Non siamo noi E poi dice ancora così Dice che ci ha salvati E ci ha chiamati Con una santa Vocazione Non in base Alle nostre opere Ma secondo Il suo scopo È grazia Che ci è stata data In Cristo Gesù Prima Dell'inizio Dei tempi Ed ora È stata manifestata Con l'apparizione Del Signore Nostro Gesù Cristo Cosa dice qua Paolo? Dice che ci ha salvati E ci ha chiamati Ad una santa Vocazione Qual è la nostra Vocazione? Alcuni Vedevano Gesù Come il figlio Di Giuseppe Qualcuni Lo riconosceva Come il figlio Del fallegname Qualcuno dice Chi cosa fa? Io faccio il pastore No io sono Un figlio di Dio Che servo il Signore Ho una santa Vocazione Io ho la vocazione Per fare la missionaria E quindi Vado in Africa Lascio tutto Per andare in Africa Ad evangelizzare In Africa In Nigeria Ci sono tanti evangelisti Che stanno evangelizzando Milioni di persone Tu non puoi andare in Africa Per evangelizzare La tua Africa Deve essere i tuoi parenti La tua Africa Deve essere la tua scuola Il tuo posto di lavoro La tua famiglia Il tuo condominio La tua città dove vivi La tua regione Dopo avere evangelizzato La tua Africa Che è il tuo posto di lavoro La tua scuola I tuoi amici I tuoi parenti Il tuo condominio Dio poi ti porterà Da Gerusalemme In Giudea In Samaria Fino all'estremità della terra Ma se non inizi Da casa tua Dalla tua scuola Dal tuo condominio Non ti porterà Neanche in Samaria Neanche all'estremità Della terra Dice Secondo il suo scopo E la sua grazia Non il tuo scopo Ma il suo scopo Qual è il suo scopo Per me? Io avevo dei progetti Ma Dio ha cambiato I miei progetti Affinché Entrassi nello scopo Che lui aveva per me Ma non sono arrivato Ancora pieno Ci sono solo entrato Ma non sono al centro Perché so che Dio ha preparato Qualcosa di meravigliore Più grande Per me Ma io ci sono dovuto Entrare Io non l'ho guardato Da lontano Ho detto Ah è bello Però Certi soldi Mi fanno più comodo Il successo Mi è più comodo È bello Lo guardo Wow Dio c'è uno scopo Per la mia vita Ne parlo Che Dio c'è uno scopo Per la mia vita Ma non ci ho messo mai i piedi Questo è l'inganno Di molti credenti Parlano che Dio ha uno scopo Per la mia vita Ma non ci hanno messo mai i piedi Tu devi entrare Nello scopo Che Dio ha per te E devi perseguire Lo scopo Che Dio ha per te Fino a quando Fino a quando ti conviene Quando non ti conviene più Esci dallo scopo Devi perseguire lo scopo Fino alla fine E Gesù ha detto Che nello scopo Che Lui ha per te Non sempre sarà facile Non sempre sarà come tu pensi Ma Lui ti ha detto Che attraverso questo scopo Questa strada tartuosa Strada tortuosa Angusta Arriverai là Attraverso le persecuzioni Quando evangelizzi le persone Quando parli alle persone E ti ridono in faccia E ti prendono per Belzebù Ti prendono per un mago Per uno stregone Per un chirichetto Per un prete Per un Tutto quello che vuoi Attraverso questa persecuzione Tu arriverai in cielo Perché non tutti Ti batteranno le mani Quando evangelizzi Non tutti ti diranno Ma attraverso la tua perseveranza La Bibbia dice Salverai anime Ma se non persevi Le anime non verrai salvate Non le salverai E c'è un mondo Gesù disse Che la messa è grande Io parai sono pochi Campi sono bianchi da mietere Ma pochi sono io parai Dio sta cercando parai Dio sta cercando papà Dio sta cercando mamme Persone che realmente Piegano le ginocchia Dice signore Guarisci il mio cuore Prepara il mio cuore Vuoi essere un papà Vuoi essere una mamma Per tutte quelle persone Che non hanno un papà Per tutte quelle persone Che non hanno una mamma Per tutte quelle persone Che arriveranno E non hanno identità Alza la tua mano E dici signore Io voglio essere un papà Non farlo qua pubblicamente Per favore Farla a casa tua Perché non serve a niente Venirla a farla pubblicamente Quando poi non lo fai Nella tua cameretta Fallo nella tua cameretta Piega le ginocchia Davanti al padre Dici signore Io voglio essere un padre Come io ho avuto un padre Voglio essere un padre Per tante persone Se sei una donna Dici signore Io voglio essere Come io ho avuto una mamma Voglio essere una mamma Per tante persone Prepara il mio cuore Ammodella il mio cuore Rompi il mio cuore Rompi i miei schemi mentali Signore Prepara il mio cuore Perché io posso essere una mamma Con l'insegnamento Della tua parola Io posso accogliere Le persone ferite Non mi possa compiacere Che le persone Vengono a me Signore Ma che io Quando accolgo le persone Possa provare sentimenti Di compassione E possa mostrare Il tuo cuore Alle persone Non possa trovare gratificazione Perché le persone Vengono da me Stiamo attenti Fratelli Perché questa è una trappola Mi sento gratificato Perché le persone Vengono da me E mi vedono come un papà No è il papà È Dio Io non devo provare Gratificazione Perché le persone Vengono da me A raccontarmi le cose Ma io devo compiacere Il cuore del padre Devo dire Non sono io Il vero papà È il vero papà Nel cielo E devo portare Le persone Al proposito di Dio Amen Quanto cuori Rotti ci sono Per l'assenza di un papà Per l'assenza di una mamma Quanto cuori Rotti ci sono Perché Tanti fratelli E tante sorelle Nella chiesa Non pregano Non piegano le ginocchia Quanti Quante persone Stanno aspettando Poter vedere Un punto di riferimento Una luce Un papà Una mamma Uno che si prende cura E gli fa da papà Gli fa da mamma Che conosce Capisce il suo cuore Capisce le sue debolezze Capisce i suoi punti forti Capisce le sue amarezze Le sue ferite Ed è pronto A curare E a curare E a curare Senza aspettarsi Il contraccambio La mamma Non si aspetta Il contraccambio Ma la mamma dà Il papà Non si aspetta Il contraccambio Ma il papà dà Ma prima di questo Preghiera Stai davanti a Dio Prenditi del tuo tempo Quando arriverai a casa Alzati la mattina presto Una mezz'oretta prima Puntati la sveglia Alzati presto Piega le ginocchia Da solo Da sola Piega le ginocchia Che dice Spirito Santo Prepara il mio cuore Io voglio essere Un buon padre Anche se a me Non mi è stato insegnato Anche se io non ho avuto Un papà Una mamma Spirito Santo Prepara il mio cuore Ammodella il mio cuore Perché io posso essere Un buon padre E una buona mamma Per tutte quelle persone Che tu Signore Vuoi raccogliere Le persone quando arrivano In chiesa Non hanno bisogno Di educatori Hanno bisogno Di padri Hanno bisogno Di madri Non hanno bisogno Di insegnanti Hanno bisogno Di un papà E hanno bisogno Di una mamma Hanno bisogno Di un abbraccio Hanno bisogno Di sentirsi capiti Hanno bisogno Di essere compresi Hanno bisogno Di essere curati Hanno bisogno Dopo di essere insegnati Come dice la parola di Dio Ammoniti con l'insegnamento Della parola di Dio Quanto drammi Ci sono Nella vita Delle persone Rigetto Ferite Accusa Famiglie rotte Distrutte Quanto drammi Ci sono Nel cuore Delle persone Per la mancanza Del papà Mancanza Della mamma E se la chiesa Fallisce Anche in questa Missione Che speranza Abbiamo O che speranza Diamo al mondo Nella chiesa Dobbiamo formare Cuori di padri E cuori di madri Che si prendono Cura Delle persone Pronti Pronti al sacrificio Pronti A mettere da parte Il proprio io Pur di corare Le persone Amen E io credo Che Dio Stia chiamando Proprio te Ad essere un buon padre Ad essere una buona madre Ma non è un pastore Che ti fa Che ti fa buon padre O buona madre E l'intimità Certo Il contributo Di un pastore Di un ministro Serve pure Ma quello che ti fa Un buon padre Una buona madre È lui Quando tu stai In comunione con lui Quando tu lo cerchi Quando tu desideri Il suo cuore Lui ti farà Un buon padre Ti farà Una buona madre Spirituale E anche se non hai partorito Non sono usciti Dal tuo grembo Tu li sentirai figli Li amerai Li curerai Gli porterai la parola Li pascerai Sarai pronta Al sacrificio Sarai pronta A vegliare la notte Per cibare loro Sarai pronta A sfamarti tu Per cibare loro Ma se Anche in questo La Chiesa fallisce Che non troveranno Padri E madri È una delusione E noi Non ci possiamo Permettere Di deludere Le persone Che arriveranno In Chiesa I bambini Che arriveranno In Chiesa Noi non ci possiamo Permettere Noi non possiamo Essere irresponsabili Di non cercare La faccia di Dio E usare Meccanismi Umani O sistemi umani Per curare Le persone Non ci sono Sistemi umani Per curare Le persone Ma c'è Il cuore Paterno di Dio Per curare Le persone E noi Come Chiesa Abbiamo la responsabilità Di permettere Allo Spirito Santo Di ministrare Al nostro cuore Perché il nostro cuore Sia guarito E sia formato Secondo Il cuore di Dio Amen Alleluia Stiamo cinque minuti In silenzio Davanti a Dio Solo cinque minuti Per favore Chi deve andare via Va via Però Questi cinque minuti Dobbiamo stare in silenzio Davanti a Dio La Bibbia dice Sta in silenzio E aspettami Sarà lui stesso Che parlerà Al tuo cuore Questa sera Sarà lui stesso Che ministrerà Al tuo cuore Grazie a tutti 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 Grazie a tutti